L'onda per il gol della Juve! È gol! È gol! È gol! È bello! È gol! È gol! Non me lo rompete che... Allora, voi avete fatto gol, non è che... Chirico, Chirico, vedo anche Marcello e... Manga Marcello, Marcello, manga! Che roba! Lezione di calcio! Martinelli, svegliati, sei ultimo! Martinelli, svegliati, sei ultimo! Carlitos! Vabbè, Martinelli mi pare preoccupato. Allora... Il fischio dell'arbitro Banti di Vinovo dentro... la scivola... Nooo! Goli! Annullato! 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 L'assistente, vediamo... Fuori gioco! Credo per fuori gioco! Ci sono tre, fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! È bisogno di discutere! Beh, sì... Sì... Allora... Poi ancora in avanti... Arriva il primo fischio e la Juventus parte con una vittoria! 1 a 0 a 0! Vai Marcello! Vai Marcello! Eh... Cominciate! Vedi la classifica!